Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi faccio il What's in my bag E vi faccio vedere cosa ho nella mia borsa Sto per uscire, quindi vi faccio vedere in anteprima cosa sto per portare dietro Allora, la bag, questo dentro, se così possiamo chiamarlo Ha praticamente due taschine interne, partirò da quelle La prima taschina ho un rossetto di MAC e questo è Twig Poi ho una mollettina, un elastico e delle gomme da masticare E poi qui ci tengo il telefono, però adesso sta registrando Nell'altra taschina invece ho un igienizzante per le mani E questo qui della Shein, gel igienizzante mani Questo qui, poi ho una crema per le mani Questo, credo, Cherry Bloom Si, fiore di ciliegia, sempre della Shein, una piccola crema per le mani Poi ho delle salviettine multi... E' uscito il cane... Che cos'è c'è? Che cos'è c'è? È entrata una mosca e lui le insegue Poi ho delle salviettine multiuso, possono sempre far comodo Poi ho il rossetto che sto indossando adesso Che è lo 05 di Kiko, qui insomma E' il mio adoratissimo fondotinta della L'Oreal E fatemi sapere qua sotto se volete sapere, se volete vedere la recensione di questo Perché è ottimo, quindi fatemelo sapere Poi passando alla borsa vera e propria Allora ho gli occhiai da soli Che io ho già fatto vedere Un pacchetto di fazzoletti Le chiavi di casa La borraccia con l'acqua E il borsello Questo qui Che l'ho presi a Firenze ed è tutto in pelle Oh, qui ci sono da piccola Con tutti i scomparti, cerniere E anche questo sta per esplodere Con quante carte ci sto inserendo dentro Però sono dettagli Spero che questo video sia piaciuto E se è stato così mettete tanti pollici in su Iscrivetevi al mio canale E a tutti i miei social Snapchat, Instagram, Facebook Tutti Così potete seguirmi Anche Instagram Story Perché Per chi non mi seguisse su Snapchat Vedete la mia vita in tempo reale Su Instagram E niente Vi mando tanti baci Anche Iago vi saluta Ciao Salute Ciao a tutte